La verità della famiglia Abliazov oggi la racconta il cognato di Alma Shalabaieva, la donna prelevata dalla villa di Casal Palocco nella notte tra il 28 e il 29 maggio e deportata in Kazakistan. Il suo racconto del blitz raccolto da Maurizio Molinari per la stampa stride con la versione della relazione del capo della polizia Pansa, letta ieri in senato da Alfano. Dopo avermi picchiato in camera mi hanno portato nella sala dove uno dei poliziotti mi ha detto, anzi l'ha fatto capire con i gesti che dopo avermi spaccato un occhio mi avrebbe spaccato anche l'altro, poi mi avrebbero rotto i denti, poi ha fatto questo gesto che mi avrebbero tagliato la gola. Nel video Bolat mostra dove i poliziotti lo avrebbero picchiato dietro le orecchie e sulla schiena. Poi mi ha colpito con la cartella, io ho visto scendere il buio, avevo il naso spaccato, il labbro spaccato, cercavo di fermare il sangue ma non ci riuscivo. Va rilevato che risultano infondate le affermazioni riportate dagli organi di stampa secondo le quali il citato Seralieu Bolat sarebbe stato percosso durante l'irruzione riportando ferite al volto. Infatti il citato Seralieu alle ore 19.20 del 30 di maggio si è recato presso l'ospedale Aurelia Hospital dove ha riferito che alle ore 23 del 29 maggio aveva subito una aggressione presso la propria abitazione, cioè nella villa di Casal Palocco riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Si precisa che il predetto è stato fotosegnalato alle ore 18 del giorno 29 maggio e non presentava alcuna lesione facciale e che l'intervento presso la villa di Casal Palocco è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29. Le ferite dunque sarebbero posteriori al blitz. Ma oggi parla anche Venera, moglie di Bolat e sorella di Alma Shalabaieva, colei che avrebbe cercato di impedire ai funzionari italiani di portar via anche la piccola Alua. Hanno cominciato a farmi grandi pressioni, racconta, a urlare, mi hanno minacciato, hanno detto che avrebbero buttato il telefono nella piscina e che non dovevo telefonare a nessuno. Ho cominciato a supplicare in ginocchio pregando please no Alua, no Alua, ma loro insistevano, mi hanno terrorizzato. Secondo la relazione di Panza sarebbe stata invece la Shalabaieva a voler portare via con sé la bambina, versione decisamente negata oggi dall'avvocato della signora che dice sono stati i funzionari kazaki a dare alla piccola in tempi record un passaporto, prendendo la foto dal passaporto diplomatico centroafricano di Alma, quello che per le autorità italiane era falso. Ma allora perché, ribadisce l'avvocato, sul provvedimento di espulsione la polizia ha scritto il cognome che compariva su quel documento, se ritenevano fosse contraffatto?